WHERE'S MY MONEY, BITCH! Che cazzo dobbiamo fare? Aspettare? C'è Polish People's Republic? Magari si ribellano Magari si ribellano La Libia la stiamo già boostando Libia! Giappone che sembra un sushi di un qualche tipo Rosino, bianco e giallo Sembra un sushi di non so qualche tipo La guerra fredda è inizio Oh abbiamo finito le armi Di upgrade cosa abbiamo bisogno? Scusate carri armati Carri armati abbiamo bisogno Abbiamo bisogno di tanti carri armatini Io attaccherei anche la Francia Alla fine abbiamo due fronti Fa bene che Guarda no, dovrei attaccare e fare come con la Germania Questi sono dei forti che si stagliano nel bel mezzo Stiamo facendo anche qualche fabbrica civile Giusto per avere un po' più di Surplus Ehm Secondo me possiamo leggere la linea con i sovietici secondo me Abbiamo 400 carri armati bonus Uh abbiamo 400 carri armati bonus Ale E anzi per rendere le mie divisioni ancora più forti Visto che abbiamo comunque la bellezza di 10.000 carri armati Wow Abbiamo 10.000 carri armati leggeri a far lì la muffa Light tank Light tank Light tank Light tank Minchia quanta di Questa è una divisione uber No Devevano 10.000 sono spariti tutti No No Edit Remove Save No Com'è possibile sto fatto Ah Ok Così va meglio Non abbiamo i bomber Non possiamo Non ci ho pensato Non abbiamo Noi siamo un po' allergici a tutto ciò che Siamo parecchio allergici a tutto ciò che 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 dobbiamo ricercare gli strategic bomber Non abbiamo i bombardieri Io però mi sono scocciato e sta qua a fare niente Prima di chiudere la live voglio fare Voglio vedere se almeno possiamo reggere Oh cazzo Oh cazzo però c'è il fronte con la Grecia Il fronte con la Grecia non l'avevo considerato Che 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 ah ok ah ok la spagna è negli alleati per fortuna ah eh però non so se basteranno queste non so se basteranno come farò non subire attrito gli gli svizzi dai rimane ragionato gli alleati bene sono contento bene germania mi è fatta da b67 divisioni o la così mi piace giocare cazzo fa vedere come le hai fatte queste divisioni oltretutto eh sono anche delle belle divisioni eh guarda che belle divisionicine che abbiamo qua complimenti germania grazie me ne prendo giusto un paio e le mando a lui uè bauscia adesso i gaci non fanno più frutti tac eh sti cazzo sono proprio delle belle divisionicine c'è qualcosa che dobbiamo difenderci dai russi a sweater questa qua sarà la nostra riserva come sfruttare i tedeschi dai su via Deutschland Deutschland Uber Allest Uber Allest La la tata la ta 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 ti fotto la vita I mi chiotte o che poi d'Italia e cazzo italiani 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 mai italiani siete dei sommari oh è il pelatone è il pelatone è il pelatone che lo facciamo promuovere è il pelatone si però anche il pelatone deve avere un colore leggermente diverso dagli altri è il pelatone è le predivisioni italiane come sono fatte? e vabbè ma anche gli italiani fan cagare sono tutte poi con l'esperienza misera proprio è il pelatone guarda ti do un calcio rotante ti do proprio beh quando hai l'intenzione di venire qua? spero tu voglia venire nel più breve tempo possibile perché qui si è qua no? non gli piace quella oh ma siete storditi vabbè il pelatone niente il pelatone non vuole andare perdiamo quella zona la bulgaria la perdiamo ahimè che queste sono le riserve sul fronte Budapest fallback line go go pelatone queste invece le faccio diventare prendiamo un altro generale potrei prendere pure i generali dei tedeschi eh? di nuovo il fratello del pelatone il fratello del pelatone gli diamo una linea di fallback line sul loader nel caso in cui le cose si mettano male almeno siamo abbiamo il culo parato voilà queste altre 15 divisioni di franteria le mettiamo a Vienna così perché viene bella e va protetta ci vuole qua per fare sto claim è la madonna 125 è la madonna comunque mi piace questa cosa che prendi dai tuoi vassali li prendi le divisioni e le fotti proprio come se fosse proprio fottere sgamare le divisioni degli altri con fatica con fatica e sudore avevano fatto gli altri invece noi li fottiamo proprio guarda che questo qua a 24 è stra convinto di farcela a me lo dobbiamo finire anche i forti qua ue testine ue testine ahhh voglio vedere il periodo di cui l'aglio field hospital ottimo supporto in battalions asse berlino budapest asse berlino e roma budapest no non lo vedo più tanto convinto anche lui all'improvviso e devo dire che hanno rinforzato leggermente ma noi resisteremo stiamo con le nostre dottrine aeree stiamo con le nostre dottore chissà ace generation chance vai così a bomba ace generation chance kingdom of libya eh fascista non ancora non è questo ancora non vuole diventare fascista eh ah no no now allentiamo voglio vedere giusto come va come va a finire la situazione quelle comiche oh è un migliore e due alleluia mica ti aspetti davvero unione tu tu sei un figlio di una cagna tu sei un figlio di una cagna perché eri negli alleati vabbè che qui ah non hanno chiamato oh si lo so non abbiamo nessuna divisione vabbè attaccateci attaccateci bastardi allora io sono molto timidi nooo sta divisione del cazzo facci quello che vuoi taglia divertiti madonna l'albania blitzkrieg in albania e abbiamo trovato l'utilizzo di queste divisioni 15 divisioni per il fronte albanese ahhh però nessuno attacca quindi è una guerra destinata a non finire cazzo volete rumenia greci più quella feccia via ahhh conti greci sporchi sudici schifosi ladri ahhh l'euro me l'ho ficcata del culo andiamo qua ahhh feccia la donna tessalonica te la devi ficcata nel culo via bolshevico ahhh ubermash chi sono questi cinesi via che via continuano via via attaccati gli albanesi ma gli albanesi non penso che siano in grado di forci molta resistenza minchia li abbiamo sfondati minchia li abbiamo sfondati via bolshevichi guarda ti faccio uno di quei pocket che ti fa no la pocket coffee in confronto ahhh l'albania è capitolata ahhh e tu che cazzo qua come fanno avere i supplies non c'è un porto qua come fanno avere i supplies ahhh gli danni i supplies i rumeni bastardi sudici ok ok al posto la guardia nazionale di berlino la guardia nazionale di berlino la germania a che livello è di no la germania scappa in the barrels e loro sono appena a limited crocstation orca puttana quanta popolazione è la germania? non lo so non lo voglio sapere devi farmi come un preservativo vai ok qua non è il caso qua non è il caso no no bolshevichi via dalle palle tutti quanti donne greci quanto sono i netti qui vi dovete levare vi dovete levare Allora scusate Voi potete gioinare Questo Allora riusciamo pure ad avanzare in Grecia ragazzi Superbo Dove ci sono le truppe sovietiche La vedo più difficile Non è vero dai Advance Voglio fare un mega pocket Via Sciò sciò Avanzare Senza fermarsi No No Non fermatevi Sì anche i cinesi sono dentro Yeah Vai cinesi resistete Non possiamo lasciare che il capitalismo e il comunismo Qualsiasi cosa adesso sia Possa prevalere Via dalle palle Via dalle palle No No Cazzo Via 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 dalle palle I bolsheviki Non vinceranno mai Lasciatemi passare Ancora Ancora Wow Solo 6.000 noi Aia No Levatevi Minchia Minchia il pocket Tutta la poloia Tutta la poloia Tutta la poloia Merda No Via dalle palle Questo è il mio pocket Nessuno me lo rovina L'intera poloia L'intera poloia circondata Questo è da screenshot L'intera poloia circondata